per la sicurezza stradale. Vi illustro rapidamente che cosa fa la Fondazione Agna. La Fondazione Agna fa progetti per la sicurezza stradale, l'Agna è l'associazione nazionale delle imprese a sicurezza. La Fondazione è un organo di Agna che si occupa di sicurezza stradale. In questo caso ha fatto un progetto che è dedicato ai ragazzi delle scuole e ai neopatentati, quindi ai ragazzi che stanno per prendere la patente o che l'hanno appena presa. Questo progetto prende proprio il nome di neopatentati, che vi dà una fantastica opportunità, che è l'opportunità di cominciare la vostra carriera di guidatori nella maniera migliore possibile, quindi con le giuste istruzioni e con le giuste tecniche di guida. Oltre a questo i migliori possono anche vincere un corso di guida sicura.